Grazie a tutti. Il libro riproduce anche il titolo di quello che erano stati poi tutti i lavori che sono stati raccolti appunto qui negli atti, Lonergan's Anthropology Revisited, The Next Fifty Years of the Vatican II. Bene, quindi un cordiale saluto a tutti, agli studenti, ai colleghi di questa università e di altre università che sono qui convenuti, al nostro rettore magnifico, al nostro principale relatore di questa sera, che è il professor Wilkins, di cui parleremo, al padre Jerry Whelan che ha curato gli atti di questo convegno. Quindi sarà un evento articolato e possiamo senz'altro introdurre nel modo migliore questo evento dando la parola al rettore dell'Università Gregoriana, il padre Dumortier. Prego, rettore. Funciona bene? Dunque, I don't speak in English, since there is a translation from Italian to English, but in italiano, almeno in mio italiano. Carissimo, professore Jeremy Wilkins, carissimi amici, sono molto lieto di salutarvi e di darvi il benvenuto all'inizio di questa serata dedicata al padre Bernard Lonergan attraverso due eventi. Il primo è sicuramente l'uscita degli atti della conferenza internazionale tenuta alla Gregoriana quasi due anni fa sul tema Lonergan's Anthropology Revisited. Desidero ringraziare di cuore il reverendo padre Jerry Whelan per questa pubblicazione che ha richiesto non solo tutta la sua attenta cura, ma anche il desiderio di condividere con un pubblico allargato i frutti della riflessione di coloro che hanno partecipato a questa conferenza. Pubblicare questo volume non è soltanto un dovere di memoria e di gratitudine nei confronti dei diversi relatori che sono intervenuti, ma anche il segno dell'eredità intellettuale del padre Lonergan, un segno che è la sua eredità e viva nell'università dove cominciò ad insegnare nel 1953. Il secondo evento, secondo solo in ordine cronologico, è la lezione magistralis che il professore Jeremy Wilkins darà sull'importanza di Lonergan per la teologia di oggi. Vorrei esprimere la mia e la nostra profonda riconoscenza al professore Wilkins per la sua presenza tra noi stasera. Grazie di cuore per aver accolto così bene il nostro invito e speriamo tutti noi che avremo molte altre opportunità di accoglierla nella nostra università. Non sono personalmente uno specialista di Bernard Lonergan, ma sono stato e rimango un lettore attento della sua opera. Penso che Bernard Lonergan sia e rimanga un pensatore di grande rilevanza per noi oggi. Come alcuni dicono troppo spesso e a voce talvolta troppo alta, e come altri non vedono e non sentono, trascorriamo e viviamo cambiamenti veloci e sgonvolgimenti che possono creare una crisi, crisi intellettuale, culturale, spirituale, a causa dell'oscuramento o della perdita di ciò che era o sembrava basilare. In tempi di crisi, due posti in gioco sono particolarmente rilevanti dal mio punto di vista. La prima è ritrovare, al di là delle mode intellettuali e della schiuma mediatico-culturale, i fondamenti di una riflessione e di un pensiero libero e profondo. La seconda è la questione di un giudizio giusto. Attraverso queste due posti in gioco, nei nostri tempi, la sfida è quella di un umanesimo autentico. Nessuno può affrontare questi problemi difficili senza punti e modelli di riferimento, senza una guida affidabile. Penso che Bernardo Negan faccia parte di questi pensatori, che sono maestri intellettuali, busole sul cammino umano, stelle che illuminano le notti da attraversare. Ovviamente, Bernardo Negan non fa il nostro lavoro al nostro posto. Non dà risposte nei nostri panni, che sarebbero come instant answers, senza riflessione. Non fa al nostro posto il discernimento che è il nostro proprio compito. Ma, apre un cammino, spinge a un pensiero che non sia una collezione di idee, ma l'attività di pensare, ricorda ciò che è fondamentale per la persona che sta cercando il bene, il vero e il bello. Come un maestro, come una guida, l'Onuyan, quando ascoltiamo ciò che ci ha detto attraverso i suoi scritti, non constringe intellettualmente, non genera persone che ripetono a papagallo il suo pensiero, ma infonde il desiderio di un pensiero profondo e realistico che si inradica nella nostra tradizione intellettuale e rimane aperto alle aspettative odierne, che orienta lo sguardo senza nostalgia verso l'orizzonte presente in ogni momento. Auspico che il pensiero e l'opera di Bernard Lonegan possano essere viventi tra noi e che il suo spirito possa ispirarci nella nostra missione. Grazie, professore Wilkins, di essere per noi un testimone notevole della rilevanza di Bernard Lonegan oggi. Vi auguro a tutti voi una buona serata. Grazie, padre Dumortier, perché abbiamo veramente adesso anche la sua indicazione di accogliere, quindi quanto anche affronteremo questa sera con questa particolare attenzione di non essere soltanto dei ripetitori di Lonegan, ma veramente di essere persone creative che hanno approfondito il loro pensiero e quindi grazie anche a questo pensiero sono impegnate in un compito di creatività, un compito di creatività che ci porta senz'altro a guardare comunque anche alla tradizione, perché il pensiero di Lonegan è comunque radicato nella tradizione di Sant'Agostino, di Sant'Ommaso, quindi abbiamo lì le radici più profonde. Al tempo stesso Lonegan però è veramente aperto a tutte quelle altre prospettive che si sono maturate all'interno dei vari saperi negli itinerari storici e quindi da questo punto di vista ci sollecita veramente a rimanere noi stessi aperti a prospettive future. Grazie. Posso allora passare adesso la parola al professor Jerry Whelan che è veramente l'artefice, sia della preparazione della conferenza internazionale che abbiamo profondamente vissuto due anni fa con un'apertura internazionale veramente notevole e adesso finalmente con la presentazione di questo libro. Grazie Jerry. Buonasera. Credo che voi come me siete stati toccati, emozionati un po' dal discorso del padre rettore e per voi che capite un po' il pensiero di Lonegan avete capito che lui ha afferrato l'essenza del pensiero di Lonegan, cioè l'antropologia è un invito a una conversione personale che include una conversione intellettuale all'uso di un certo metodo per affrontare la vita normale, diciamo, ma poi affrontare ogni disciplina accademica. Non siamo papagali, insomma, ma usiamo un metodo, papagali, usiamo un metodo per affrontare un mondo complesso. Allora, ho una versione in lingua inglese di ciò che voglio dire, ma comincio a provare con la mia brutta versione della mia limitata capacità italiana, quindi introdurre il contenuto di questo libro per dieci minuti, non molto più, e poi continuiamo con la lezione magistrale della sera. Questo libro presenta le contribuzioni ricevute durante la conferenza che avete sentito. La conferenza fu indetta per celebrare il cinquantesimo anniversario del Concilio Secondo Vaticano, svoltosi negli anni 62-65. Non a caso, questo era anche il periodo in cui Lonergan era professore alla Gregoriana e peritus al Concilio. Il titolo della conferenza, Una rivisitazione dell'altropologia di Lonergan, fu scelto da un comitato organizzativo, del quale ci sono qui, nell'uditorio, da dieci accademici, molti dei quali erano professori della Gregoriana. Il tema è immerso dalla convinzione che molto sia presente nel pensiero di Lonergan, che rimane di grande rilevanza per il mondo globalizzato di oggi, e che il pensiero di Lonergan continui ad essere importante per l'implementazione del Concilio. Il focus sull'antropologia espresse la convinzione che è presente come un elemento che sottostà ad altri elementi in molti dibattiti pubblici di oggi. Nello stesso tempo, rileviamo come l'antropologia di Lonergan crea ed usa un metodo che può guidare la pratica non solo di molte discipline accademiche, ma anche della vita di tutti i giorni. Questa intuizione portò alla decisione di invitare speakers che discutessero dell'antropologia di Lonergan e in particolare raccontassero come essi stessi avevano messo in pratica il metodo che egli proponeva. La conferenza all'epoca ebbe una struttura di tre livelli e questo si rispecchia nella trepartizione di questo libro. Prima di tutto spieghiamo come si assistette all'epoca ad un numero limitato di interventi di rilievo alcuni dei quali vennero riportati da un altro speaker. Quindi la prima parte soprattutto in forma di introduzione al pensiero centrale di Lonergan da antropologia al metodo. Però la direzione della conferenza era soprattutto di mostrare che non è soltanto una teoria astratta ma si applica questo metodo e anche si può entrare nel capire il metodo tramite di vedere l'uso del metodo in pratica. infine nella terza parte abbiamo trattato questi tre temi soprattutto per esempio c'era un'emphasi su tre panel di interreligious dialogue social science interdisciplinarietà ethos of a Catholic University quindi da tutte le parti del mondo se posso sottolineare soltanto una frase che per me è un po' simbolico di un tono di molti dei discorsi quando c'era un protestante un metodista di Corea che è coinvolto nel dialogo cristiano buddista ha detto che c'è un'influenza abbastanza di Lonergan in certi ambiti accademici in Corea ma che i buddisti commentano come quando sono coinvolti coloro che usano Lonergan l'incontro è diverso con loro è piuttosto un incontro soggetto a soggetto tutta la persona che incontra un'altra persona e non soltanto a un livello concettuale che hanno visto abbastanza degli altri che entrano nel dialogo e la terza parte era ricordo infatti il suggerimento del retore nel processo di pianificazione del convegno invitare offerte dei partecipanti per dei workshop ogni pomeriggio di seguire il tono del convegno cioè parlare di come loro applicano Lonergan non speculare sul suo pensiero ma testimoniare dell'uso e quella è la terza parte del libro piccoli articoli molti piccoli articoli di un tipo di rassegna di ogni workshop ma è notevole la diversità diversità accademica geografica ma qualcosa in comune ogni volta allora per finire la mia riflessione voglio riflettere un po' sulla rilevanza di questo metodo nell'epoca di Papa Francesco infatti ho avuto ho parlato un po' su quella cosa nella conclusione del libro ci sono vari incroci fra il metodo di Lonergan e il metodo implicito teologico di Papa Francesco qui voglio sottolineare soltanto due cose dove sono adesso il punto che desidero sottolineare è che una evidente ragione di sperare che questo pontificio possa rappresentare una nuova opportunità per il ricevimento del pensiero di Lonergan è che due temi mi scusi sono saltando un po' dal mio testo però il primo tema di Papa Francesco è dobbiamo evitare un pensiero meramente astratto dovrebbe essere una concretezza nell'applicazione delle nostre idee e il secondo aspetto è l'importanza della cultura quando si vuole cambiare il mondo si comincia con una evangelizzazione della cultura quei due aspetti voglio sottolineare soltanto un po' mi scusi se salto un po' in lingua inglese adesso mi scusate so if our translators aren't too shocked that I suddenly change back to English I want just to give some broad impressions of the parallels Lonergan Pope Francis if you read this quotation I suppose I could I'd like to remember Father Michael Paul Gallagher who was a professor here in the Gregorian has gone back to Ireland sick and was a contributor to the conference has his article in this book he used to always do this many of us have received classes from him he'd say who is this who said this so try to guess who is Lonergan who is Pope Francis between these two quotations the concrete being of man then is being in process his existence lies in developing well if you guess who's that the next sentence will give away who this is his unrestricted desire to know leads him ever towards a known unknown his sensitivity matches which is the operator of his intellectual advance with a capacity and a need to respond to a further reality than meets the eye and to grope his way towards it step by step well this isn't really working as well as Father Gallagher would have done you can recognize that's Lonergan but notice the similarities with Pope Francis Evangelii Gaudium God is to be encountered in the world of today God manifests himself in historical revelation in history time initiates processes and space crystallizes them God is in history in the process this gives priority to actions that give birth to a new historical dynamics okay so I'm concluding my talk more or less now but just a point about culture we've all heard Pope Francis talking so much about the importance of the people of God listening to the people of God who are protagonists of their own change in history and to understand God as merciful so I just conclude with a quotation from the opening of Lonergan's method in theology A theology mediates between a cultural matrix and the significance and role of a religion in that matrix besides the classicist there also is the empirical notion of culture it is a set of meanings and values that informs a way of life when the classicist notion of culture prevails theology is conceived as a permanent achievement and then one discourses on its nature when culture is conceived empirically theology is known to be an ongoing process and then one writes on its method in conclusion I would just like to thank all of those who have been part of the conference and the publishing of the book as well as the preparation of this evening and I know that Professor Finamore will emphasize in the course of this evening how we hope that this is just the launching of our Lonergan year here at the Gregorian and you've seen some adverts to join the Lonergan club thank you very much ammiriamo la sintesi di padre willan che veramente ha impiegato pochi minuti per presentarci le linee essenziali del libro un libro che è molto ricco abbiamo già sentito alcuni aspetti delle sue articolazioni interne certamente la prima parte è quella che possiamo in qualche modo dire più fondativa in ordine all'antropologia al metodo ma subito già nella seconda parte si apre questa attenzione all'esperienza l'esperienza che va vissuta all'interno dei vari contesti umani all'interno dei processi storici proprio perché dobbiamo evitare alla luce del pensiero di Lonergan un pensiero che sia appunto soltanto astratto abbiamo bisogno di arrivare a un pensiero che si incarni nell'esperienza ed ecco allora anche nella seconda parte tutta l'importanza che nella conferenza e quindi nel libro lo troverete si è data anche al dialogo interreligioso ed ecumenico anche ai metodi che possono essere impiegati più utilmente all'interno dell'investigazione delle scienze sociali o anche e questo interessa tra l'altro anche i nostri numerosi studenti che sono qui come può porsi oggi una università è quello che è chiamato a essere veramente una università che faccia proprio il pensiero di Lonergan e poi le varie applicazioni che sono state richiamate e certo il libro ormai è qui ce l'abbiamo abbiamo raggiunto questo importante traguardo ma come per tutti i traguardi raggiungerlo significa poi che il cammino è nuovamente aperto quindi il libro si propone veramente a tutti per una lettura ed una interpretazione anche attiva personale di tutto ciò che viene presentato certamente c'è l'importanza alla cultura e ai processi storici d'altra parte c'è questa sfida all'umanesimo autentico a cui il padre rettore ci richiamava d'altra parte ecco senza maestri intellettuali sarà difficile che poi possiamo individuare veramente quelle vie e anche quelle indicazioni di metodo che possono poi accompagnarci personalmente all'interno delle varie aree dei saperi e anche delle varie esperienze a